Sono 400 le dosi di vaccino inoculate ad Agropoli nelle due giornate dedicate interamente ai bambini. Il punto vaccinale anti-covid è stato organizzato presso l'ospedale civile. Qui i piccoli pazienti hanno trovato ad attenderli medici pediatri, animatori e volontari di protezione civile e del servizio civile, nonché la Croce Rossa. Questi ultimi sono stati messi a disposizione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. I bambini sono stati messi a proprio agio dagli operatori sanitari e dei volontari, capaci di creare un clima di festa, ma anche o soprattutto di rassicurare le famiglie. Non si sono registrati ritardi né altri problemi. Quelle delle scorse settimane sono solo le prime date ed infatti nei prossimi giorni ne saranno organizzate delle altre. È un risultato importante che ci fa ben sparare per il futuro. Voglio però chiedervi ancora una volta uno sforzo. Prenotate la vaccinazione per i vostri figli, fatelo direttamente sulla piattaforma oppure anche passando in farmacia se avete difficoltà. È importante andare in questa direzione. Noi abbiamo voluto collaborare con l'Ans, che sta facendo un ottimo lavoro, mettendo a disposizione non solo la nostra protezione civile, le ringraziamo sempre, abbiamo messo anche degli animatori per accogliere i bambini nella maniera migliore, perché tutto può sembrare anche qui un gioco in modo da farli stare più sereni. Se le protezioni proseguiranno, in settimana prossima ci saranno altri momenti di questo tipo, in modo tale da rapidamente di arrivare a una percentuale importante di bambini che hanno fatto il vaccino.